buongiorno da Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di vediamoci chiara oggi ho il piacere di avere con noi l'avvocato Maria Luisa Missiaggia buongiorno Maria Luisa buongiorno a tutti e buongiorno a tutti coloro che ci seguono allora ho invitato qui Maria Luisa non solo perché si chiama come me ed è un nome bellissimo quindi partiamo da questo presupposto ma anche perché con l'avvocato Missiaggia che è la fondatrice e coordinatrice del studio donne abbiamo pensato di realizzare una partnership dedicata alle donne vittime di violenza anzi veramente noi vorremmo cercare di prevenire chiaramente questo fenomeno e che cosa vorremmo fare vorremmo in realtà creare un progetto che ci aiuti a sensibilizzare tutte le donne nei confronti di quelli che sono in qualche modo identificabili come dei comportamenti a rischio da parte dei loro partner questa è una parte e dall'altra vorremmo anche educare gli uomini che sono potenzialmente a rischio in modo tale da evitare di arrivare a comportamenti così estremi come quelli degli ultimi fatti di cronaca quindi Maria Luisa a prescindere da questa mia presentazione del nostro progetto che realizzeremo insieme e per il quale poi faremo una vera e propria chiamata alle armi se così si può dire a tutte le nostre a tutte le nostre utenti ehm volevo in qualche modo focalizzare con te l'attenzione su alcuni punti che mi sembrano importanti perché purtroppo periodicamente ogni anno abbiamo a che fare con una cronaca piena di lucidi e stragi della famiglia e anche se diciamo si cerca di fare ogni cosa per evitare questo stato di cose purtroppo continuano a ripetersi e quindi come avvocato ti chiedo qual è la tua esperienza a riguardo? La mia esperienza purtroppo è drammatica perché eh nonostante dal duemila e tredici ad oggi ci siano state anche degli nascimenti delle pene e quindi una stretta da parte del della legislazione nei confronti eh del degli omicidi e anche degli abusi e delle dei maltrattamenti nella famiglia eh non abbiamo avuto un riscontro proprio positivo eh di riduzione eh del fenomeno questo perché perché purtroppo eh in questi fenomeni e in questa tipologia di reati eh inasprire le pene senza creare un percorso alternativo di cura e o prevenzione è del tutto insufficiente. Io potrei fare tantissimi esempi di casi concreti dove addirittura dopo tredici anni di pena scontata e di buona condotta con addirittura eh l'uscita dal carcere nelle nelle ore di urne il soggetto X eh si è eh rimesso con un'altra persona senza dire che era stato in galera che aveva avuto questo tipo di problematiche di aver ucciso la compagna precedente e quando è stato scoperto ha tentato nuovamente di uscire l'altra compagna. Questo nonostante la persona in carcere si sia manifestata sotto tutti altri punti di vista come una persona comunque mite, una persona normale, una persona comunque che ehm ehm aveva una sorta di eh sensibilità anche no? A quello che aveva fatto. Quindi ci troviamo di fronte a una ehm come a una psicologia particolare di uomo che ha un problema nei confronti della figura femminile. Magari non ce l'ha nei confronti di tutto il resto ma nel confronto della figura femminile sì. Oggi uno degli ultimi casi non voglio fare nomi e cognomi ma un personaggio noto eh nel mondo sportivo che è stato eh rinviato a giudizio per Stolchi nei confronti della compagna per maltrattamenti che eh ha rilasciato un'intervista dicendo che lui non aveva fatto niente e che viene ingiustamente accusato. Quindi mh ci troviamo di fronte a soggetti che hanno delle problematiche problematiche psicologiche, problematiche di eh autocontrollo e problematiche nei confronti della figura femminile. Soggetti ripeto trasversali. Quindi non c'è un eh un un aggancio a un a una diciamo a un aspetto della società o al denaro o a una cultura o non cultura. No, il violento può appartenere a qualunque estrazione sociale, a qualunque può avere il denaro e non averlo, può essere ricco, può essere povero, può essere colto o non colto. Non c'entra nulla ed è questo che va comunicato alle donne anche per comprendere che la persona che si presenta nel nel modo più affascinante del mondo, la persona più straordinaria non necessariamente non è una persona violenta. quindi ci sono dei segnali che vanno conosciuti, identificati e corretti o comunque da cui ci si deve allontanare in via preventiva senza aspettare il momento drammatico, senza pensare di poter cambiare la persona che abbiamo di fronte perché magari è stato su un momento perché ci ha strattonato purtroppo perché in quel momento era nervoso e e così via. Poi vedremo nel dettaglio quali sono tutti gli elementi che possono eh essere segnali spia della violenza successiva. Grazie Maria Luisa hai detto cose importanti. penso che noi donne abbiamo talvolta difficoltà nel nel comprendere quanto siano potenzialmente pericolosi certi comportamenti e certi atteggiamenti e quindi saperlo, averne consapevolezza ci consente di far accendere in qualche modo delle spie luminose, dei campanelli di allarme che ci possono aiutare a prevenire situazioni di pericolo come queste. Quindi ecco quello che ti chiedo è cosa possiamo fare insieme per aiutare chi si trova in situazioni di questo tipo per aiutare a venirne fuori o addirittura a non entrarsi per niente. Intanto eh vediamoci chiara perché perché eh quando ho ho visto la vostra piattaforma quando ti ho conosciuto la prima cosa che ho pensato è è giusto che eh per il benessere di una donna ci sia un appunto anche di eh confluenza tra il benessere appunto medico e quello eh psicologico di persone nell'ambito familiare. Io come avvocato matrimonialista mi curo della famiglia nelle sue patologie e sempre di più con l'esperienza mi sono resa conto che soltanto prevenendo e quindi insegnando alle eh alle donne a evitare di farsi del male sotto vari punti di vista è eh diciamo la prima modalità per volersi bene e anche per evitare delle malattie eh fisiche. Quindi questa diciamo questo aggancio tra noi è proprio con il tre di union del benessere, l'impegno a stare bene, a volersi bene e a prendersi cura di sé. E come possiamo farlo? Io eh con la mia onlus cerco di diffondere il messaggio che curare l'uomo violento è possibile attraverso un percorso di recupero dei dodici passi, un percorso noto e stranoto al mondo anglosassone perché dal millenovecentosessantasette loro si curano eh le loro dipendenze con questo percorso con dei feedback straordinari e qui in Italia è un percorso difficile da diffondere perché ehm è un percorso spirituale, un percorso di ricostruzione della personalità che va a toccare vari punti e che comunque lavora sull'individuo. Quindi l'obiettivo qual è? Eh creare un progetto eh costruirlo insieme eh con dei centri che possano prendersi cura di questi uomini e i quali eh accolti nel senso più ehm più 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 lato del 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 nostro caso cioè accolti nel senso di dargli la possibilità di recuperarsi possono accedere curarsi e riconoscere loro per primi la violenza che stanno procurando perché se noi agiamo solo sulle vittime senza occuparci di coloro che compiono la violenza siamo sempre un passo indietro perché comunque eh la eh la legge i mezzi di coercizione i bracciamenti elettronici i piedi di avvicinamento abbiamo visto e lo vediamo tutti i giorni non sono sufficienti Sassuolo ce lo insegna eh per esempio ultimamente per dire un caso ultimo eh e quindi non non la la donna che sa di non essere protetta dallo Stato perché non perché lo Stato non ci non ce lamenta tutta ma perché l'imprevedibilità dell'azione del carnetice è talmente alta che non ci possiamo occupare di tutti allora dove possiamo agire? Possiamo agire nel dare delle possibilità a queste persone e senza eh diciamo come fanno negli altri paesi anglosassoni e americani dove addirittura la procura deferisce il soggetto violento ai centri di ascolto per fornirgli un'opportunità di non fare eh di di non fare il carcere quindi un percorso alternativo alla pena come per i tossicodipendenti vai in comunità a curarti se non vuoi fare la galera e così dovrebbe essere dare un'opportunità perché a mio parere anche se in questo c'è molta contestazione la violenza è una malattia ma non è una malattia nel senso che si depenalizza chi la compie perché il malato è colui che non è punibile una malattia nel senso che è un disturbo della personalità che va curato e non possiamo far finta di niente lo è perché è una persona che comunque si rivolge con violenza a un'altra e la uccide uccide adesso anche i figli e oppure la uccide per potersi eh diciamo liberare di un peso di un problema non è una persona che sta bene non è una persona che può considerarsi all'interno di una società dove il carcere può essere la soluzione a meno che nel carcere non abbiamo dei percorsi alternativi di cura e anche allora sì va bene in ogni caso l'obiettivo è occuparsene ce ne sono già di centri di ascolto per uomini maltrattanti famosi cam e ne stanno nascendo altri quindi è un fenomeno diciamo che si sta diffondendo e quello dei dodici passi è sicuramente la novità perché io ci credo molto è un percorso bellissimo e poi abbiamo avremo la possibilità anche di diffonderlo all'interno della piattaforma così che le persone possano conoscerli singolarmente e poi possano anche contattarci chiamarci e approfondire la tematica. Grazie Maria Luisa mi avevi detto anche un'altra cosa importante che dobbiamo imparare a non sottovalutare certi comportamenti e certi atteggiamenti. Non sottovalutare quello che succede quotidianamente uno schiaffo, uno strattonamento, un insulto, una denigrazione, l'isolamento, l'isolamento dalla famiglia di origine, dall'amicizia, sono tutti segnali che non vanno sottovalutati e non vanno interpretati. È necessario quasi avere una sorta di fede, affidarsi a professionisti capaci che possano identificare il pericolo prima che la persona all'interno della relazione lo possa vedere. Grazie Maria Luisa, grazie a tutti voi che siete state qui con noi. Questo è il primo di una serie di incontri dedicato a questo tema e una serie di incontri con i quali ci siamo date l'obiettivo di sensibilizzare tutti noi a riconoscere un uomo violento, ma anche a proporre una cura per l'uomo violento affinché il comportamento, questo tipo di comportamento non si ripeta più. Detto questo non mi resta che aspettarvi nuovamente online alla prossima occasione e vi anticipiamo che nel mese di febbraio vorremmo realizzare un evento online per coinvolgervi anche direttamente e attendere quelli che possono essere i vostri contributi, i vostri suggerimenti, tutto quello che vi sembra importante da aggiungere all'attività che stiamo facendo. Ciao a tutte. Grazie, ciao.